Era un risultato che volevamo vedere per seguire dalla squadra. Mi riferisco alla capacità di lottare in un campo difficile, contro avversari molto difficili, molto difficili, che hanno un modo di giocare che possono mettere in difficoltà la stessa squadra se non mi interpreti la gara contro di loro con grande attenzione, con equilibrio, guardando bene alla ricerca della cattura degli imbalzi, alle seconde palle che ce ne sono tante, al contropiede e all'abilità di quei due davanti, se non fai questo è difficile uscire da questo stadio di incerti. Noi l'avevamo fatto con molta tensione e noi stiamo riusciti, come dicevi, a gestire il risultato, non come avrei voluto, perché il risultato non si restisce solo con le unghie e come dentro, ma si restisce spesso mantenendo il possesso della palla, lo stesso, dovrebbe farlo in questa maniera e noi in questo siamo stati un po' deficitari, ma miglioreremo. Se fossero state ammunizioni per proteste o per litigi con gli avversari o con l'arbitro, no, una l'abbiamo presa così, quella che sai si fa, è presa così e non bisogna farlo. Invece se sono falli di gioco perché non ci si vuole fare, sopraffare l'avversario, allora io lo accetto e lo valuto come un risultato positivo.